Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joe Pa 17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovo episodio del Fuck Time il nostro classico appuntamento del lunedì dove ragazzi risponderò alle domande che mi sono state poste questa settimana sotto i vari video che ho sul canale prima di iniziare ragazzi però devo svelarvi il titolo del videogame di cui praticamente vi ho letto la trama la volta scorsa e che dovevate cercare di indovinare per questo episodio del Fuck Time ragazzi molti ci sono andati vicinissimi alcuni l'hanno indovinato però diciamo che più o meno tutti avete capito di che cosa parlava questa trama ragazzi il titolo del videogame è Far Cry 3 ragazzi quindi complimenti a tutti quelli che hanno indovinato ragazzi invece chi ha sbagliato potrete rifarvi già da questo episodio perché adesso andrò subito a leggervi la trama del nuovo videogame che dovrete cercare di indovinare come indizio vi dico subito che è un gioco che deve ancora uscire quindi vediamo chi tra voi riuscirà ad indovinare questo nuovo videogame allora la trama è questa il gioco è ambientato intorno al 10.000 avanti Cristo nell'età della pietra un tempo in cui gli uomini imparano a usare utensili e pietre per la loro vita quotidiana dove la sopravvivenza è una sfida quotidiana dove bisogna combattere contro le avversità naturali e le tribù nemiche ragazzi questa qui è la trama di questo nuovo videogame che uscirà a breve non vi posso dire altro perché se no a questo punto vi direi subito il titolo del gioco e ragazzi direi a questo punto di passare immediatamente alle domande che mi avete posto mi raccomando ragazzi se volete partecipare anche voi a questo appuntamento che si tiene ogni settimana il lunedì basta che prima della domanda mi raccomando una domanda intelligente interessante che non mi sia già stata posta e non legata alla mia privacy ci poniate hashtag jobpad17 risponde come lo vedete a schermo al massimo se non siete sicuri di averlo scritto correttamente copiatelo dal mio commento qui sotto al video allora la prima domanda di oggi me la pone juvlog97 che mi chiede farai una serie di pokemon rumble? salutami allora per prima cosa juvlog97 ciao grazie mille per questa domanda allora ti confermo che per il momento non farò pokemon rumble è un gioco che onestamente non conoscevo ho guardato il trailer pochi minuti fa su youtube però sempre legato ai pokemon deve uscire un nuovo titolo wii u che si chiamerà pokemon tournament e ragazzi ho dato un'occhiata anche al trailer di quel videogame lì e magari vi porterò quello che sembra molto molto interessante e con il quale ragazzi potremo magari organizzare anche qualche evento e quindi io potrò sfidare magari voi però considerate che deve ancora uscire e probabilmente uscirà in primavera però sembra molto molto promettente una specie di tekken con i pokemon grazie mille juvlog97 per questa domanda passiamo alla prossima di famu che naturalmente mi ha scritto far cry 3 quindi complimenti e indovinato il titolo del videogame di cui vi ho letto la trama la volta scorsa che mi chiede che cosa ne pensi della partnership? allora famu, la domanda è molto molto interessante ma anche abbastanza delicata cercherò di spiegarti brevemente come la penso io allora esistono persone che sono favorevoli alla partnership e pensano che gli youtubers debbano guadagnare qualcosina dalla pubblicazione e creazione dei loro video e altri invece, altre persone invece che pensano che questa cosa non sia corretta perché comunque stare su youtube non è obbligatorio non gliel'ha detto il medico e debbano creare questi video solo per passione e per hobby io ti dico subito che sono dalla parte di quelli che è giusto che gli youtubers guadagnino qualcosa dalla creazione di contenuti comunque di qualità quindi non video fatti a casaccio, velocemente e tutto ma se vengono creati dei bei video di qualità con diciamo un buon audio degli argomenti interessanti e così via secondo me è giusto che questi youtubers che creano questo tipo di video guadagnino qualcosa perché comunque considerate che per creare un video di qualità c'è bisogno dei giochi naturalmente che non ci vengono regalati almeno nel mio caso non mi viene regalato nulla del materiale perché comunque la scheda di acquisizione il computer l'energia elettrica per far andare il computer internet gli abbonamenti internet non ce li regala nessuno e considera che per ogni video comunque si impiega del tempo nella creazione di questo video perché per esempio nel mio caso ti faccio un esempio concreto parliamo di super mario maker visto che è un gioco che mi state chiedendo in molti in questi giorni e tornerà sul canale state tranquilli per esempio quando registro un video di super mario maker impiego tipo un'ora un'ora e mezza in base ai livelli al livello di difficoltà dei livelli che mi proponete per solo registrare il video poi un'ora e mezza due ore per editarlo quindi sincronizzare l'audio sistemarlo pulirlo tagliare magari le parti noiose e renderizzarlo quindi prepararlo per caricarlo su youtube e altre due ore per caricarlo su youtube quindi come puoi ben vedere dietro ad ogni singolo video che guardi ogni giorno sul mio ma anche su tutti gli altri canali youtube che segui ci sono tutti questi passaggi la creazione del video l'editing e la condivisione di questo video su questa piattaforma diciamo che secondo me youtube può essere tranquillamente paragonato al lobby della pittura c'è chi ha lobby della pittura c'è chi ha lobby di condividere video su youtube chi dipinge ragazzi lo fa per passione ma anche per guadagnarci qualcosina diciamo la verità il pittore dipinge il quadro ha dovuto comprare in precedenza le tele, i colori quindi ha dovuto investire dei soldi lo porta ad un mercatino lo vende e con i soldi che ricava compra nuove tele compra nuovi colori e così via stessa cosa youtube ragazzi compriamo un videogioco facciamo un video lo condividiamo con voi per intrattenervi guadagniamo qualcosina e con i soldi ricavati compriamo nuovi giochi compriamo magari strumentazione migliore per portarvi video di qualità ancora superiore e così via secondo me sono due hobby che possono tranquillamente essere paragonati poi ce ne sono naturalmente altri quindi io sono dalla parte di quelli che pensano che sia giusto che gli youtubers bravi quelli bravi ragazzi abbiano una partnership e guadagnino qualche soldino dalla creazione di questi video e dal caricamento di questi video sui loro canali spero ragazzi spero famu di averti risposto in modo abbastanza completo questa qui è la mia opinione al riguardo passiamo alla prossima domanda di simone che mi chiede ma continuerai a fare i tuoi momenti epici allora ragazzi se simone probabilmente intendevi gli speciali visto che me l'avete chiesto in tanti lo so avrei dovuto pubblicare lo speciale 1000 iscritti 1003 1002 insomma vari speciali purtroppo sono stato molto molto impegnato e come vi ho scritto sotto al video dell'info time nintendo dato che a me interessa portare video di qualità sul canale non mi andava di creare un video di corsa quindi il video dello speciale 1300 iscritti è posticipato a quando saremo in 1500 sul canale quindi pubblicherò lo speciale 1500 iscritti e tutti i consigli che mi avete dato tutte le parti di video che mi avete suggerito di mettere nello speciale le utilizzerò in quello speciale lì ragazzi quindi non vi preoccupate non mi sono dimenticato dei vostri commenti grazie mille simone per questa domanda passiamo alla prossima di sugar heart o albi perché in questo commento mi hai sottolineato che posso chiamarti anche albi che mi chiede perché tra tutti i numeri che c'erano ho scelto proprio il 17 allora ho scelto il 17 non ti preoccupare non è una domanda personale in questo caso perché lo ritengo il mio numero fortunato ragazzi è anche il numero della mia data di nascita quindi ho scelto quel numero lì proprio per questi due motivi perché ritengo un numero fortunato e perché è la mia data di nascita grazie mille albi per questa domanda passiamo alla prossima di frank tre force che mi chiede hai mai letto un manga o visto un anime se ne hai uno preferito qual è allora guarda te ne cito subito uno che probabilmente conoscerà almeno il 90% 95% delle persone che seguono il mio canale Dragon Ball ragazzi ho visto Dragon Ball Dragon Ball Z e Dragon Ball GT lo so molti dicono che non è il vero seguito di Dragon Ball Z comunque ho visto anche quello voi non potete neanche immaginare quante volte e da piccolo avevo anche i fumetti ragazzi perché considerate che Dragon Ball se non sbaglio e non dico una cappellata è un manga o un anime degli anni 80 quindi potete immaginare subito da quanti anni è in giro quasi 30 anni se non di più ragazzi avevo alcuni fumetti di Dragon Ball e ho perso il conto di quante volte ho visto il cartone grazie mille per questa domanda frank tre force ragazzi direi che possiamo concludere qua questo fact time numero 17 come sempre se volete partecipare a questo appuntamento settimanale potete scrivermi tranquillamente una domanda sotto questo o altri dei miei video basta che sia una domanda intelligente interessante non legata alla mia privacy e che non mi abbiano già fatto e prima di questa domanda mi poniate hashtag giopa 17 risponde così anche per me sarà più facile ragazzi recuperarla quando andrò a creare questo video come sempre se questo video vi è piaciuto mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nel fact time alla prossima ragazzi